Usiamo le vestigia della decadenza gorghese Niente munizioni? Allora sporchiamoci le mani Sono tornato più forte di prima Avvicinati, ho una sorpresina per te Che dura lezione, ma voi Alza il caglio, ehi dai sbagliati Vai all'inferno! Sono quasi a secco La contabilità mi suggerisce di cercare delle munizioni Tra l'altro ne hai un altro di braccio Arrivo! Farò rapporto per questo Grazie! 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 Grazie a tutti